Salve a tutti ragazzi sono sempre io Felix96 e oggi sono con Ita Cleopatria Che oggi si tra virgolette meritava un video insieme a me perchè mi ha fatto scoprire un nuovo bug che sinceramente non sapevo Ed è anche molto carino Come penso che vediate siamo a Blackwater Vedete? Anche dalla mappa si vede Come sempre ve lo faccio vedere dalla mappa Blackwater E oggi vi faremo entrare esattamente in questa casa qua Questa qua Allora Il procedimento Questa casa qua vedete Il procedimento è molto semplice Voi prendete una pistola Vedete? Guardate Ora prima lo farà Cleopatria Allora Aspetta che inquadro Un attimino Vai Cleopatria vai Vedete? E lui entra sotto Praticamente niente vi basterà mettervi tipo qua diciamo E puntare con la pistola Andare avanti Vedete entrate qua sotto Vedete? Siete qua sotto Tenete premuto E ole Siete sotto la casa Guarda Ora muovo la visuale Vedete? Siamo sotto una casa Diciamo Così Poi c'è anche il verso di salire Sopra la casa Però dovete essere fortunati Cioè andate un po' più avanti Tipo qua Vedete sotto qui dove c'è il pavimento Qui E dovrete rialzarvi Però non sempre vi farà andare sopra Speriamo di essere fortunati Ok vedete? Siamo stati anche fortunati Alla prima volta Alla prima volta diciamo Vedete? Siamo sopra Qui c'è il tetto Vedete? Non è un bug difficile Ma è anche piuttosto carino Ovviamente Si può uccidere da qua Aspetta Cleopatra Vai più indietro Che ti uccido Ok Buono buono Lì Cleopatra Vedete? Voi mirate la testa Sparate E viene Ferex Ucciso Cleopatra O comunque In ogni modo Diciamo che Vi ammazza E Questo posto Per uscire C'è solo un modo Questo Come quello di tanti altri miei video La di Lamite Prendete E vi fate saltare E Niente Anche per questo video è tutto Da Ferex96 E Italia Patria Alla prossima